Messina e Casertana non si affrontano in Rio allo stretto dal 30 agosto 1992. L'ultimo precedente relativo al torneo di C1 fu favorevole ai campani che si impostero al Celeste nel turno inaugurale grazie a un gol di Moretti al 32esimo del primo tempo. E' questo l'unico successo degli ospiti in 12 gare di campionato tra le due compagini. Il bilancio infatti è completato da sei affermazioni di giallorossi e cinque pareggi. Finì 1-1 invece l'unico precedente in B del 91-92 Redi di Suppa al 40esimo e Marino al 45esimo. Amara retrocessione per entrambe al termine della stagione. Il bilancio complessivo tra Messina e Casertana parla di otto successi dei peloritani, undici pareggi e sei vittorie campane. La Sicilia quest'anno è stata benevola con i falchetti avendo ottenuto due vittorie Mazzara e Noto, tre pareggi Nissa, Modica e Marsala e una sola sconfitta ad Acireale. I tre punti consentirebbero agli uniti di Grassadonia di blindare il terzo posto e regalare un sorriso ai tifosi che anche domenica seguiranno la squadra al San Filippo.